Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 maggio in diretta sulla Zuppa di Porro. Vediamo quali sono le notizie principali della giornata. Finalmente si fa per dire che Siria è stato licenziato da Conte, nel senso che il Presidente del Consiglio ieri ha fatto quello che aveva promesso, cioè il giudice più che l'avvocato degli italiani, io direi il Torquemada degli italiani. Lo scalpo di Siria e l'umiliazione della Lega sventolati da Di Maio come trofei. Così apre il suo pezzo franco sul Corriere della Sera, perché è esattamente quello che è venuto a Hug, Giorgio, e cioè quello che è avvenuto è che è stata una grande vittoria politica che secondo me è incredibile da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega. Il foglio, mai tenero ovviamente nei confronti di questo governo, dice Salvini ha sbagliato tutto regalando tre settimane di campagna elettorale ai grillini. E in effetti così è avvenuto. Tre settimane peraltro di campagna elettorale tutte basate sul concetto onestà, che è il concetto incredibile per il quale questa campagna elettorale già orribile si sta avviando dopo le retate, come dice giustamente oggi forse la verità, di Milano e di Calabria, solo che quelle di Milano fanno notizie, quelle calabresi meno. Scontro, secondo il retroscena, oggi nel Consiglio dei Ministri, perché la Buongiorno avrebbe detto che si sarebbe creato un precedente molto grave con il dimissionamento di Siri, che vi ricordo è avuto soltanto un avviso di garanzia e non è stato ancora interrogato dai magistrati. Nessuno di quelli con cui è convolto, cioè a rata sostanzialmente sono stati sentiti, possono dire di avergli dato neanche un euro. Insomma, questa è la situazione in cui ci troviamo. Lo scontro quindi deriva da questa dichiarazione della Buongiorno, ma anche secondo qualche retroscena dal fatto che il Quirinale non abbia gradito il modo in cui sia stato verbalizzato il dimissionamento del sottosegretario. Chi se ne frega pure, dico io tra di voi. Il governo finisce qui, dice Sallusti, perché Sallusti sulla giornale dice che i politici che fanno i giudici sono un brutto segnale, ma soprattutto l'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle finisce qui. Io mi permetto di risentire da Sallusti perché capisco perfettamente che questa rottura è una rottura fortissima tra i due componenti del governo, ma c'è anche un legame fortissimo tra i componenti del governo che si chiama potere, ma anche gestione, amministrazione, capacità di continuare quello che si è iniziato. Insomma, secondo voi, oggi c'è un'intervista della Grillo, forse abbiamo esagerato tutti quanti, è la ministra della Salute, quindi quando anche i grillini dicono forse abbiamo esagerato, quando anche i leoni della tastiera fino a ieri, oggi si rimettono, ha ottenuto lo scalpo un po' in fila indiana, allora forse il concetto che la politica unisca più di quanto di vida per uno che governa potrebbe associarsi anche a questa vicenda. L'altra grande questione di giornata che a me fa veramente venire i brividi è che ce l'hanno fatta, cioè l'editore Alta Forte non sarà presente al Salone del Libro di Torino, che è una cosa che dovrebbe indignare chiunque, non i fascisti, non Casa Pound, ma chiunque abbia a cuore la libertà in un paese normale. Oggi bastava leggere un'intervista straordinaria di Walter Siti, uno che non può certamente essere definito un salviniano né uomo di destra, che ce l'ha anzi con Salvini, ed è un grande scrittore, lui sì, a differenza di questi quattro deficienti di Scalzacani, che siccome non sono scrittori, fanno consulenti dei saloni del libro, quella sì dovrebbero essere messi in conflitto di interessi, non il governatore Fontana. Ecco, questi quattro Scalzacani leggessero siti e oggi sul Fatto Quotidiano dice che orrore quando mi chiedono di fare e partecipare a una raccolta di firme in cui si prevede un codice etico per la partecipazione al Salone del Libro di Torino. Quello, il codice etico è nazista, avete capito? Io invece lo considero diversamente da Siti, lui ovviamente questa cosa non la può dire, perché lo è di origine, questo è il tipico atteggiamento comunista di merda, avete capito? Comunista di merda, scusate la parolaccia, ma è quello che io provo quando non si permette alla collega Chiara Giannini di presentare con la casa editrice Altaforte il suo libro al Salone del Libro di Torino e tutti zitti e muti e anzi contenti del fatto che questi fascisti non ci siano al Salone del Libro di Torino. Sono loro dei fascisti orrendi e pensate che cosa vorrebbe dire essere governati da questi? Cioè neanche governano e si comportano in questa maniera. Ma pensate un po' voi se Raimo, se La Gioia, se questa Michela Murgia, se loro veramente avessero in mano il ministro dei beni culturali, se loro veramente governassero, in che paese di orribile medioevo vivremmo, orribile medioevo vivremmo, se a governare fossero questi quattro incolti che si sono autoproclamati scrittori, i cui libri non vengono nulla, qualcuno dei loro libri è pagato da Berlusconi che per loro è il male assoluto e che non permettono a un editore di presentarsi al Salone del Libro di Torino. Chiamparino e Lappendino sono la stessa roba che sono presidente della regione Piemonte e governatrice e sindaca di Torino. Sono due comunisti, la loro mentalità è quella, sono due stalinisti, sono rimasti là, sono rimasti a Lungheria, sono rimasti a Praga, sono rimasti a quella roba là. Il dissenso non è tollerabile, anche il dissenso più orribile che loro non condividono si chiude, non si porta neanche con uno stand di 10 metri quadri. È una cosa incredibile. Oggi io andrò in una libreria e mi comprerò un libro di Altaforte. Non quella stronzata Lamurgia, tutti i nostri libri per far vedere l'antifascismo. Voi non siete antifascisti, voi siete peggio che i fascisti, siete dei comunisti. Chiaro? Peggio. Orrenda questa storia, quindi, di... Ma vedo che forse solo veneziani e pochi altri, insomma i giornali, quelli della macchina del fango, come vengono definiti da questi sinceri democratici che non vogliono un editore a Torino. Tria rilascia un'intervista oggi al Sole 24 Ore in cui dice che il deficit si può fare, ma soltanto per interventi momentanei, non per temporanei, non per interventi, diciamo, strutturali. Insomma, non puoi finanziare la flat tax con, dice lui, sostanzialmente al Sole 24 Ore, con maggiore deficit. L'inchiesta di Milano oggi si arricchisce soltanto di nuovi particolari che riguardano il governatore della regione Lombardia Fontana, che sarebbe stato indagato, è indagato per abuso d'ufficio, ovviamente lo scrive il Corriere della Sera, la Gazzetta delle Procure, quelli che godono quando ci sono queste inchieste che poi spesso finiscono in nulla di fatto. Allora io vi chiedo, è stato indagato perché il suo ex socio di studio avrebbe preso, ha preso un incarico alla regione, sapete di quanto è questo incarico? Un incarico peraltro di una persona qualificata come questo signore che si chiama Marsico, che è avvocato ex dello studio di Montano, da 11.000 euro l'anno. 11.000 euro l'anno, più o meno il reddito di cittadinanza. Quindi questo signore oggi ha un abuso d'ufficio perché è stato un suo ex socio incaricato. Ancora non si sa se aveva i meriti, niente, va subito abuso d'ufficio. Ma la cosa vera, grave, che mi stupisco che Filippo Facci non colga oggi sul libro, anzi, si tratta di una questione di ladri di polli, è quella straordinaria notazione che soltanto Maurizio Crippa nota sul foglio, che ogni tanto il suo DNA, soprattutto per Crippa che è lì dai primi giorni, diciamo garantista se lo ricorda, si assiste ad uno scenario di bassissima valenza sociale, si assiste a uno scenario di bassissima valenza sociale. Ecco, un magistrato può scrivere questo in una ordinanza in cui manda gli arresti, indaga 93 persone. Il magistrato non è Goethe, non è Stendhal, non è Siti. Il magistrato non dà giudizi sociologici, a me dei giudizi sociologici dei magistrati non me ne fotte nulla, a me mi fotte soltanto che ci sono degli indizi o no di reato da parte di coloro che indagano. Il fatto che si assista ad uno scenario di bassissima valenza sociale non è un tema del magistrato e la valenza sociale non la decidono i magistrati, perché se no siamo nel mondo del salone del mobile, del salone del tinello del libro di Torino, per i quali sono alcuni a decidere i codici etici sulla valenza sociale e sulla valenza editoriale di alcuni editori. Ma che paese è questo? Comunista. Comunista. In alcuni magistrati in che quattro sfigati di intellettuali che pensano di essere il gota della cultura italiana. Uno si chiamano Wingu, ma non so un nome, ma dei deficienti. Allora, l'altra grande questione di oggi è la casa dei Rom, che è attribuita a Casal Bruciato, secondo tutte le gradatorie, secondo le regole. Che cosa succede qui? La casa dei Rom... Va bene, ci si può dire di tutto, i Rom a Casal Bruciato, i fascisti che non li vogliono, semmai, come scrive bene Mattia Filtri, il problema dei fascisti è quando fanno atti illegali, cioè quando si mettono a menare le persone o a ostacolare la forza pubblica o a occupare, quando anch'essi non devono occupare luoghi pubblici. Questo è il problema, non quando fanno gli editori, ma legalmente. Quindi, il tema dei Rom è che vanno e gli assegnano questa casa a Casal Bruciato, dove c'è un disagio sociale incredibile, dove ovviamente gettano benzina sul fuoco questi gruppi, diciamo, di Casa Pound e di Forza Nuova. Allora, il punto fondamentale però, e Travaglio dice, beh, scusatemi, ha fatto benissimo la Raggi, questi fascisti sono un problema, non si riesce a capire perché non si mettano fuori legge, altro che il Salone del Libro, anche lui su questo ha ragione, però c'è un punto fondamentale che non coglie Travaglio, che il problema non è tanto la battaglia tra antifascisti e Raggi a Casal Bruciato, e che Di Maio, che è Di Maio, che è il vicepresidente del Consiglio, e non è Salvini che se la prende con la Raggi perché ha attribuito e ha difeso una casa assegnata ai Rom della sua amministrazione. Questo è il problema, cioè che Di Maio litiga con la Raggina Di Maio, chiaro, questo è il problema, toc toc, e questo non altro, poi che ci siano dei fascinorosi lì è una cosa che può essere più o meno disgustosa, ma il punto fondamentale è che questi non si mettono al torno, sono tutti in campagna elettorale, Aiello, tra l'altro, sul Messaggero, oggi, molto bene, titolo, altro che sfida dei fascisti da parte della Raggi, come vuole dire Repubblica, il titolo di Repubblica, la cosa più divertente di oggi è che questa signora si è messa a fare una passerella che i Romani non accettano più, chiaro? È facile da capire, con quella sua visina l'ha perfettino, con i suoi autobus israeliani, con quello della scorta che ci fa così quando gli facciamo due domande, ecco, sai che cosa c'è? Che forse noi così, da quelli della scorta, non ce lo facciamo dire perché ci siamo rotti le scatole di aspettare, e le passerelle a Roma interessano molto poco, mettetela a posto, amministratela bene, no? Questo è il punto, non molto più di questo. Direi che per oggi è tutto, io vi do appuntamento, come sempre, sul sito nicolaporro.it, lunedì prossimo con Quarta Repubblica e martedì con Matrix, come sempre. Ciao!